A Cagli con questa abbondante nevicata c'è chi è ancora impegnato a spalare neve o togliere i candelotti di ghiaccio dai tetti e anche come tradizione chi mangia polenta, altri giocano con le slitte con i propri bambini e c'è anche chi ha inventato un nuovo gioco. Il simpatico Enrico Gelso ha sbalordito tutti con il suo tuffo dalla finestra del bagno prima di fare la doccia. Allora dalla corsia numero due del bagno si presenti Gelso Enrico. Freddo? No. Allora al mio tre. Uno, due, tre. Com'è? Sto mi asciugando la macchina. C'è la cappatoima lei sopra vicino alla macchina. Dai, c'è il freddo. È freddo? No.